Allora Colai, hai trovato, diciamo, continuità nel senso che dopo l'ottima seconda parte di gara del penultimo turno hai giocato titolare, hai fatto bene, adesso ti cantiti per una maglia contro il Foggia? Sì, sono contento comunque di aver trovato più continuità e adesso c'è da lavorare bene in settimana per comunque cercare di farsi trovare sempre pronti. Che partita ti aspetti con il Foggia? Sicuramente sarà una partita diversa di quella dell'andata perché comunque il Foggia ha trovato entusiasmo e con l'allenatore Gallo ha fatto ottime cose, sarà una grande partita e speriamo di far felici i nostri tifosi. Chiaramente il Pescara è blindato al terzo posto, otto punti di vantaggio sul Cerignola, il Foggia per Blasone potrebbe essere un avversario nella zona playoff, è chiaro che vincere significherebbe allontanarla definitivamente. Sì, sicuramente ora ci troviamo al terzo posto, il nostro obiettivo comunque è di fare bene partita dopo partita perché dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile al secondo posto. Non ci credete al secondo posto o è impossibile? Noi ci crediamo perché come abbiamo detto il periodo di no può capitare a tutti, ora giochiamo domenica dopo una vittoria e speriamo di aver ricreato l'entusiasmo che magari poteva mancare un pochino. Ti chiedo una cosa di mercato perché è chiaro che quando mancano pochi giorni, meno di una settimana alla chiusura è sulla bocca di tutti, Colai sta bene a Pescara, non ci sta pensando al mercato? No, io non ho pensato al mercato, sono venuto qua con l'obiettivo di rilanciarmi, di fare bene, è normale, poi durante l'anno uno può avere un po' più di continuità, un po' meno, spero di averne di più e contribuire ad aiutare la squadra. L'obiettivo Serie B? L'obiettivo è quello, lavoriamo per cercare di puntare in alto.